eccoci eccoci o meglio rieccoci come state sta per iniziare il weekend un saluto a tutti ben ritrovati vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella no tra le tra i temi anche è un centrocampo che che non regge comunque e sul quale più a lì non è riuscito a porre dei correttivi si vedeva benassere in difficoltà loftus in quelle partite lì non può rimanere là davanti io credo che in certe gare si debba tornare a giocare con i tre schierati era un centrocampo inesistente ieri di fatto è peccato 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 davvero allora ragazzi vi ricordo come sempre di commentare numerosi lasciare un bel like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella non solo iscrivetevi al mio canale personale qui sotto c'è il link e vi aspetto anche il 3 maggio al fil di serenio la pericena la festa organizzatevi con amici e parenti mandate un messaggino al numero che c'è sotto qui sotto che c'è scritto qui sotto e prenotate il vostro posto l'ingresso costerà 15 euro complessivo di consumazione a pericena con tanti ospiti rossoneri e in generale non solo il centrocampo un po il piano tattico di quest'anno che fa acqua da tutte le parti obiettivamente ragazzi questo è poi riflettevo prima è questo sempre per guai a parlare di pioli no oggi se ne vedono un po meno poi io rispetto tutti pur non condividendo e anche chi qualche giorno fa diceva no ma come come fai a mettere in discussione oggi avrà finito i giga purtroppo detto che io spero di vincere l'Europa League chi mi dice ma credi di poterla vincere ragazzi se ribaltiamo con la Roma e non è impossibile giocando diversamente si può provare a arrivare fino in fondo anche se oggi sembra un po una mezza utopia ma con Liverpool che è un piede fuori insomma sarebbe un peccato clamoroso ripeto peccato clamoroso non passare il turno così come è stato un peccato clamoroso non essere riusciti a passare con l'Atalanta in casa nostra in Coppa Italia sapendo che l'Inter era già stata eliminata oltre a Napoli che in quel momento non si sapeva che avrebbe fatto una stagione pessima e però fermiamoci un attimo riavvolgiamo un nastro partiamo d'agosto arriviamo oggi io segnalo 5 sconfitte in campionato 5 non sono poche 5 dobbiamo ancora affrontare l'Inter e Juventus tra l'altro più segnalo in Champions League vado a memoria io non ho una grande memoria sconfitta contro Borussia Dortmund sconfitta con il PSG e siamo a 7 più segnalo la sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia siamo a 8 più segnalo oltre la sconfitta di ieri e siamo a 9 la sconfitta anche in Europa League con il Rennes e quindi siamo arrivati a doppia cifra di sconfitte stagionali 10 sconfitte su credo una quarantina di partite giocate potrebbe essere questo il numero forse qualcosa di più comunque siamo più o meno a una gara su 4 che perdi e ti chiami AC Milan non basta per dire c'è qualcosa che non va per me basta e avanza ma anche meno sconfitte e poi ragazzi senti parlare Furlani mamma mia Furlani a me sembra che non lo so quando parla non so se sente più più intelligente più furbo di altri ma mi sembra che dica tante cose abbastanza scontate ma che per lui sembrano la verità che ti deve convincere di qualcosa anche quando si parla di pioli solite domande eh sì sì solite domande ma solite risposte il solito andamento purtroppo detto questo abbiamo analizzato nel video precedente anche in un video sfogo le colpe di pioli se non avete ancora visto alla fine di questo vi rimando a quello così potete esprimervi anche su un tema che è molto caldo oggi ma che per me non è mai stato freddo neanche nelle scorse settimane eh che che ne dicessero in tanti per me anche se passa con la Roma e vince la semifinale e vince l'Europa League per me il ciclo è finito e ogni tanto c'è c'è il colpo no di coda c'è il ti trascini un po' però poi tutto viene a galla e le partite come quella di ieri sono inaccettabili esteticamente Milano giochi in casa davanti a un pubblico straordinario tra l'altro squadra scesa in campo con l'encefalogramma piatto hanno tradito però anche diversi giocatori diversi big Giroud ha sbagliato quel gol incredibile e Smalling lo ha di fatto arginato molto bene Loftus-Chic ieri molto male ma anche perché in certe gare quella posizione lì lo penalizza troppo e il Pioli non è riuscito comunque a cambiare qualcosa a livello tattico Ben Nasser molto male a scusanti perché arriva dall'infortunio sta facendo anche diciamo così dei sacrifici col Ramadan Teo Hernandez è un altro che ieri si è svegliato all'ottantesimo con una sgroppata ma i precedenti 80 minuti molto molto male a volte lo vedi Teo a volte sembra voglioso e lo è a volte sembra che non traspaiano emozioni dal suo volto come appunto ieri e la partita è deludente quindi anche i giocatori come si dice si devono dare una bella svegliata in queste partite ma anche se magari il piano tattico non li valorizza ci mettano loro del loro soprattutto il fattore motivazionale e in re vedevi una squadra oltre che essere compatta ben messa in campo su di giri con quell'adrenalina lì con quella giusta tensione l'altra squadra a parte qualche rara eccezione vedi Gabbia Gabbia era uno che aveva la giusta tensione lo stesso Calabria pochi altri troppi 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 deludenti quindi me la prendo ovviamente anche i giocatori soprattutto con quelli più forti perché dallo studente più bravo ti devi aspettare il voto più alto se delude e si accontenta della sufficienza in questo caso l'insufficienza non va bene e ti prendo per un orecchio detto questo c'è un tema gigantesco che si chiama rafaleao sapete che io avevo difeso rafaleao per con l'uscita secondo me molto indelicata anche a tratti volgare eccessiva di cassano però la gara di ieri se cassano dobbiamo ignorarlo lo deve fare anche leao ma se leao voleva zittirlo con la gara di ieri gli ha fatto alzare la cresta la gara di ieri di rafaleao è stata forse la peggiore degli ultimi tre anni una delle peggiori da quando veste la maglia del minan e da un giocatore che per me è il più forte è inaccettabile vedere una partita del genere da un punto di vista innanzitutto e tra poco vi faccio vedere anche una lite che c'è stata dopo la partita con il mio collega michael cuomo da un punto di vista innanzitutto motivazionale perché non aveva sacro fuoco dentro sacrificio zero volontà zero e ragazzi diciamo le cose come stanno non cerchiamo di edulcare la pillola soltanto perché è un nostro beniamino non nascondiamo la polvere sotto al tappeto guardate la partita che ha fatto il sharawi che a mezzi tecnici che saranno il 10% di quelli di leao oltre che atletici e ha fatto 10 volte meglio portando anche la croce si è sacrificato ha fatto il terzino e quando ha potuto è andato anche davanti se il rileo avesse avuto quello spirito di sacrificio avrebbe fatto una partita straordinaria quindi il discorso motivazionale che è sempre un suo grande limite purtroppo però ora di anni non ha più 20 ne ha 24 quasi 25 anche lui si deve dare una bella svegliata perché non va bene poi in campo è stato ripreso da menian perde l'uomo e rimane lì menian a un certo punto l'ha preso e si è molto arrabbiato perché rischiano di farci gol si alza e va subito verso leao puntando il dito per dargli una sveglia che evidentemente poi non è arrivata e la partita di leao ieri nei numeri allora vediamo insieme vediamo insieme la partita di ieri in cui non l'ho visto mai andare via all'uomo sinceramente 78 minuti 38 tocchi pochi 81 per cento passaggi riusciti ma spesso indietro in orizzontale zero tiri in porta due fuori due bloccati dribbli riusciti zero zero dribbli riusciti rafaleao zero duelli a terra vinti due su sei ne ha persi quattro a erini a 22 su tre 11 palle perse quasi una su tre e appena un fallo subito anche questo gli dà un po' l'idea del quanto fosse facile ieri fermare rafaleao ha trasformato selic in in cafù in un misto tra cafù e e maldini su quella fascia lì selic aveva davanti ragazzi che ha fatto figure spesso barbine quest'anno l'ha trasformato in uno dei terzi migliori in europa ieri e questo atteggiamento basta cioè tu il primo anno può essere un po così a volte ciondolante secondo ok poi cresci basta anche perché oggi sei il giocatore più pagato del milan ecco basta il salto di qualità serve e quest'anno non lo hai fatto i numeri ci sono alla fine 12 con 12 assist però basta queste prestazioni qui in cui sei l'uomo in meno o uno degli uomini in meno quando è stato sostituito poi si è aperto il dibattito fischia pioli per il cambio fischia lui io credo fischia lui perché tutti dallo stadio hanno visto una partita di rafaleao indecente vergognosa inaccettabile perché tu puoi anche sbagliare ma devi provare devi tentare devi essere nella partita devi farti vedere deve essere voglioso non spettatore e ripeto come l'ho detto l'altro giorno non devi mettere quelle emoji lì su cassano mi sembra che si impegni troppo sui social e che in campo spesso faccia partite come queste in cui non si impegna invece di rispondere a cassano sui social rispondesse in campo facesse il suo dovere in campo perché altrimenti dà ragione ai cassano e compagnia ragazzi e poi nervoso per carità sicuramente aveva tanti motivi per essere nervoso ma dopo la partita cade in un altro comportamento diciamo così sbagliato sfortunato e non lo dico perché è un collega non lo dico perché è un amico magari lo coinvolgerò qui sul nostro canale youtube nei confronti di di michael cuomo allora michael cuomo è in mix on ok nella zona mista riprende passa leao e dice ragazzi c'è c'è leao perché siamo in diretta qusu s dice ragazzi ecco leao leao evidentemente capisce roma per toma non so che cosa capisce e se arrabbia con michael cuomo va lì a muso duro anche gli dice una frase poi chiariremo anche con michael poi va via e dice di fare bene il tuo lavoro di fare bene il tuo lavoro ma michael stava semplicemente riprendendo il passaggio cosa che fanno tutti e dice in diretta ecco a voi leao ecco leao non è anche a voi ecco il passaggio di leao devi fare bene il tuo lavoro rafa se proprio con un estremo affetto e simpatia nei tuoi confronti devi fare tu bene ieri il tuo lavoro non michael cuomo che non voglio difendere perché amico ma perché non ha nessuna colpa poverino vi faccio vedere quello che è successo dal da calciomercato punto it adesso ve lo faccio rivedere meglio comunque fai bene il tuo lavoro si gira anche dopo che è andato via ma non ha nessuna colpa lo hanno detto anche tutti i colleghi che erano lì vicino no e adesso faccio vedere anche l'inizio come qualcuno dice ma sto riprendendo qual è il problema e ripeto per chi non fosse pratico di ecco sono in diretta gli dice qualcosa e poi ribadisce no lui può cioè lì per fare quello michael fare interviste per riprendere il passaggio quindi non sta facendo nulla di non consentito rafa evidentemente nervoso però è inciampato su un'altra buccia di banane che si è voluto mettere lui lì io me la prenderei un po di più con me stesso piuttosto che sul con il mondo attorno e ripeto un po social in meno un po di garra più in campo perché così non va bene fai bene il tuo lavoro chissà che cosa avrà capito poi se ci staranno aggiornamenti chiarimenti vi racconterò però anche qui è serata storta completamente poi il discorso qui non va sul campo perché dopo però ragazzi caro rafa non va bene non va bene cioè ormai non sei più un ventenne in campo una bella sveglia e poi non era una partita michael una partita importantissima la partita più importante dell'anno arrivati a questo punto anche tu no non basta che ci sia ora dopo che ti fermi o esci dal campo e lo spirito di eserficio non deve mancare mai fa benissimo megnano a riprenderti davanti a tutti e secondo me questa volta i fischi sono anche legittimi a me non snervante la partita di leao è stata inaccettabile per me sono legittimi poi c'è chi non li condivide per carità però uscito a quel punto un segnale anche lui lo meritava e spero che li faccia bene perché è un ragazzo intelligente detto questo cardinale in tribuna questa può essere la speranza se però dalle parole si passa i fatti e si capisce davvero che diverse cose devono cambiare c'è il fattore speranza cardinale in tribuna che era molto molto arrabbiato per uno spettacolo indecoroso visto ieri da lui e dagli altri 70.000 di san siro ditemi che ne pensate commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi qui vi aspetto alla festa prenotate il vostro posto e iscrivetevi al canale personale che ci sotto qui nel link un abbraccio a tutti